Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca and I'm excited to announce season 4 of my podcast Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets, all that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. Interessi Zero e Rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. Tan Zero TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. Io lo so che male fa ricucirsi l'anima, domani me ne pentirò, ma oggi non so dire no. Era il 2013, Jack Lafuria fece questo disco, musica commerciale, ma siamo sicuri perché insomma sicuramente a livello di sonorità ci si avvicinava a un qualcosa che, diciamo, poteva essere considerato tale ai tempi, no? L'uso dell'autotune, il... come l'ho detto autotune? Autotune? Ma che cazzo, vabbè. L'uso comunque di melodie, che poi Jack ha iniziato a fare reggaeton, hit su hit di quella tipologia, quindi giustamente adesso si è talmente proiettato in quel lato per un paio d'anni che poi riascoltare oggi questo disco ti porta un attimo indietro, ti porta un attimo a rivedere le posizioni, soprattutto per come è andata la musica poi col tempo, perché ragazzi dobbiamo ricordarci che comunque la musica ha preso un andazzo che non era minimamente prevedibile e ai tempi c'erano molti più puristi, c'era una mentalità molto più chiusa, soprattutto nell'ambito rap. Poi il Jack ha rifatto il disco col Chilla, ha fatto un sacco di strofe, quindi comunque c'è... dimostra sempre di saper fare questa roba, ha fatto la storia e la continuerà a fare. Però nel suo disco solista sentiva l'esigenza, diciamo, di provocare questo concetto del musica commerciale, ma la verità è che sentiva di voler raccontare un aspetto di sé che esulava dall'underground. Jack è uno della vita mondana, è uno che comunque appunto, quando mi ricordo c'era Club Privé, gue pequeño magari dopo il live, tardasera, ogni tanto dicevo io torno a casa, per quanto ho capito sono il guercio, un attimo me ne torno a casa, sono stanco, domani mattina abbiamo il battesimo del figlio di Emilio, zio, domani mattina abbiamo la conferenza stampa, domani mattina abbiamo sto in piedi e tu vuoi far serata fino alle 7, sono le 3 del mattino e torno a casa. Jack no, Jack è quello che è proprio fino all'ultimo, fino all'ultimo secondo proprio. Ecco, è un po' questa la logica di non so dire no, che però viene ecco dedicato tra le righe ad una donna, ad un amore, ad una tentazione, ecco. Perché qui si parla di un sentimento, di un aspetto non proprio pratico, anche astratto se vogliamo, perché Jack ragazzi anche quando fa le canzonette più leggere, anche quando, ricordiamoci che comunque è un poeta e quando lui parla del suo animo, di quello che ha dentro, comunque lo fa sempre con cognizione di causa e lo fa sempre in un certo modo. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare quando andiamo ad ascoltare Jack la furia, della sua poetica, perché comunque lui resta un pilastro che si sa cazzeggiare ogni tanto, perché si sa godere la vita, sa che la vita è fatta anche di leggerezza. Lui se ne è sbattuto al cazzo che tutti gli dicevano Jake ma tu devi fare il rap, le cose. Lui faceva reggaeton, ma perché non gliene fregava niente veramente, anzi si diverte a provocare consapevole di chi è, di chi era, di chi sarà e di chi sarà per sempre appunto. Ma questo brano qua a me mi ha colpito tanto e negli anni mi è rimasto, perché ragazzi cosa vuol dire ricucirsi l'anima? Sono due parole, ricucire l'anima, ma c'è un mondo talmente profondo, talmente forte dietro e che a me mi colpisce ogni volta. L'ascoltavo quando uscì il disco, era un periodo della mia vita in cui mi sentivo tanto colpevole perché effettivamente commettevo dei peccati e non volevo essere assolto, come dice Jake. Mi sentivo un po' sbagliato sotto certi punti di vista, sentivo che la mia vita stava prendendo delle direzioni diverse da quelle che avrebbe dovuto prendere. Ascoltavo questo brano e mi sentivo come se parlasse a me appunto e come se mi giustificasse, perché questa canzone è una canzone che in qualche modo giustifica e alimenta un po' quel lato di noi che ha bisogno di essere sfogato, seppur magari considerato sbagliato. Chiaro, dipende anche dalle circostanze. Infatti in questo caso oggi lo vedo in una forma più matura, quando magari ti avvolgi a un sentimento forte che magari è anche disfunzionale in relazione al tuo percorso di vita e a una relazione, a una stabilità, però senti quell'attrazione che non riesci a placare. Quindi lui lo dice, domani me ne pentirò, ma oggi non so dire di no, stare su una nuvola come una divinità. Cioè, quindi siamo pronti a pagare il nostro scotto con la società, con la vita, con la nostra anima, con la nostra interiorità, con la nostra spiritualità, per vivere quell'istante in cui siamo su una nuvola, come una divinità. Sentirsi un dio per qualche ora e poi tornare fottutamente umano, cadendo dal cielo, finendo all'inferno. Ecco, poi col tempo si impara anche a gestire questa cosa qui, quindi il dolore, diciamo, della caduta è sempre meno forte se lo sai gestire, quando ti ci abitui un po', però la verità è che ogni volta che si ricrea questa situazione l'impatto è devastante e delirante e Jake lo sa bene, perché comunque ogni volta che è un poeta, e Jake è un poeta, dà la sua anima in pasto alla vita, è doloroso, è molto doloroso. Qui si parla di sentimenti, qui si parla di roba che ti sviscera dentro e Jake lo sa bene, lo sa benissimo come si fa a ricucirsi l'anima, però purtroppo è una cosa per certe sensibilità fondamentale, soprattutto quando inizia ad avere tutto e tutto ti basta fino a un certo punto e tutto ti manca. E quindi di conseguenza devi andare oltre quel limite che non è più un limite che magari mette in mezzo la legalità, l'illegalità, devi andare oltre quel limite spirituale, intellettuale appunto, interiore, sentimentale, devi andare al bordo di quel qualcosa che tocca la sfera emotiva, che parte dall'infanzia, arriva fino al giorno prima, all'istante prima, per vivere quell'attimo, quell'attimo eterno, affinché appunto l'eternità sia in un attimo, consapevole di quello che accadrà dopo, cioè che è solo un istante, che nulla è per sempre, che tutto si ferma e che bisogna avere il coraggio anche di morire per avere una fetta di paradiso. E Jake in questa canzone ci descrive a fatti concreti una morte temporanea del corpo, della stabilità, della tranquillità a scapito proprio di se stessi per avere quell'aspetto in più, quel plus, quel passo che ci fa stare veramente a due passi dal cielo, ecco, bella Jake, non ho altro da aggiungere, è una canzone tra l'altro con un fare melodico meraviglioso, io uso sempre questa parola, fare melodico, melodicità, sta roba qua, ecco però sta canzone veramente è un piacere cantarsela da soli dentro a camera, io lo so che male fa ricucirsi l'anima, magari alzando il tono, farlo a squarciagola, stonandola tutta, ma brindando alla vita, una vita amara, cinica, difficile, che però per certi cuori, forse ecco, la verità è che un'alta prospettiva non esiste mai pienamente.